Fabio Merlini, benvenuto nel posto delle parole. Buonasera, buonasera a voi. Ed eccoci qua insieme con Fabio Merlini per anticipare l'incontro che lei avrà al Festival Biennale Democrazia a Torino. L'avrà il 23 marzo alle 11.30 in un posto tra l'altro molto importante, molto bello, il Polo del Novecento. Fabio Merlini è presidente della Fondazione Eranos, è direttore della sede della Svizzera Italiana, della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale. Ha codiretto gli archivi Usserla dell'Ecole Normale Superiore di Parigi e altri gruppi di ricerca. Ha insegnato filosofia della cultura, epistemologia delle scienze umane, Università di Lausanna. Ed è in collegamento per l'appunto da Lausanna per questa breve conversazione. Anzitutto Fabio Merlini è presidente della Fondazione Eranos e qui siamo curiosi di questa fondazione perché noi proprio recentemente abbiamo raccontato un libro che ci metteva di fronte alla straordinaria e curiosa storia del Monte Verità. Che cos'è la Fondazione Eranos? Guardi, la Fondazione Eranos ha un rapporto strettissimo con il Monte Verità perché fa parte di quella sorta di triangolo, come dire, di una sorta di geografia dello spirito che è il Monte Verità, la Fondazione Eranos e le isole di Brisago che sono proprio molto vicine l'una realtà dall'altra. La Fondazione Eranos, tra l'altro quest'anno festeggiamo i 90 anni di attività, 1933-2023. Nasce dall'idea geniale sicuramente di una signora che si chiama Olga Fröbe Kaptein che come spesso succede per chi viene dal nord, si innamora di questo lembo della Svizzera perché è una sorta di avamposto mediterraneo in Svizzera appunto e decide di acquistare una proprietà tra l'altro proprio sul lago, direttamente al lago. E qui nel 1933 dà via un'esperienza unica e anticipatrice, cioè vede il rischio della specializzazione disciplinare e avvia un'esperienza di interdisciplinarità antelitteram. Cioè attorno a un tema decide di far interagire non solo le scienze umane con le scienze naturali ma anche Oriente e Occidente. Quindi invita persone rappresentative di queste realtà e le fa parlare, le fa discutere attorno a dei grandi temi che sono i temi di sempre. In più voglio aggiungere in un tempo, tenete presente nel 1933 cosa è successo in Germania, in cui lei percepiva questa tragedia che si sarebbe profilata di lì a breve e immaginava che con il dialogo, con l'incremento dello spirito fosse possibile, lo dice proprio una letra, contrastare le forze del male con le forze del bene, del pensiero, dell'incontro, del dialogo, della comprensione. E adesso introduciamo l'incontro del 23 marzo insieme con Fabio Merlini, introdotto dal giovane filosofo Leonard Mazzone. L'incontro è in collaborazione con l'Istituto Gramsci di Torino e l'Unione Culturale Franco Antonicelli. A questo punto andiamo a trovare nella parola libertà, che è anche il tema del Festival di Biennale Democrazia 2023, il dono avvelenato della libertà. Però per spiegare come la libertà può essere un dono avvelenato, Fabio Merlini ci porta indietro nel tempo, anzi più esattamente ci porta all'inizio del tempo, quando l'uomo e la donna vennero creati, e qui siamo nello straordinario libro del Genesi biblico. Perché? Sì, guardi, in parte l'ha già anticipato lei, nel senso che se si legge il Genesi, diciamo, con la libertà con la quale si legge un mito, un qualsiasi altro mito, Beh, si scopre qualcosa di interessante. Cioè che di fatto l'atto della creazione non è l'atto della creazione dell'uomo e della donna, è l'atto della creazione di due esseri che sono, diciamo, molto simili a degli animali, ma hanno qualche cosa in più, quindi che stanno in un certo senso tra l'animale e l'uomo, ma che diventeranno uomini e donne. Non lo sono immediatamente. Perché? Perché la loro condizione nel giardino dell'Eden non è la condizione umana. Non sono ancora confrontati con la finitudine, non sono ancora confrontati quindi con la morte, non sono ancora confrontati con il dolore, con la necessità. Vivono in un regno che è costituito da questa natura prodiga che offre tutto il necessario. Tant'è che non hanno pudore, non hanno consapevolezza, perché non sono confrontati con il limite, cioè non sono confrontati con la libertà. Cioè il tema della libertà, se lei ci fa attenzione, è il risultato di una trasgressione che produce una condanna, la cacciata. È nel momento della cacciata che questi due esseri, che sono un po' più di animali, perché hanno comunque un dono in più di quello degli animali, hanno il dono della parola, però non hanno ancora, diciamo così, ciò che costituisce la condizione umana e questa l'acquisiranno dopo aver trasgritto. A quel punto loro si ritrovano nudi, quindi hanno consapevolezza di loro stessi e sono appunto condannati alla libertà. E io lo trovo un mito, un racconto straordinario, perché ci mostra che la libertà è certamente un diritto che abbiamo conquistato con delle lotte, con delle sofferenze, con delle morti, ma è anche una condanna, quindi che ha in sé qualche cosa di ambiguo e quindi ha in sé anche il rischio della illibertà. Ma noi lo vediamo molto bene perché in fondo della libertà, mutatis mutatis, si può dire quello che Agostino diceva del tempo, cioè qualcosa di molto chiaro quando nessuno te lo chiede, quando ti chiedono di spiegare che cosa non riesci a farlo. La libertà ha qualche cosa di simile, nel senso che quando c'è, quando c'è, tendiamo a dimenticarcene. E chissà come la spendiamo, la libertà, quando c'è. Facciamo delle scelte, un paio di scarpe piuttosto di un altro, ma la libertà forse è anche qualcosa in più della libertà del consumo o della libertà dell'attore economico. E quando non c'è che ci rendiamo conto di quale dono straordinario riguarda quello che sta succedendo oggi in Ucraina piuttosto che in altre parti del mondo. Quindi la libertà si gioca sempre dentro questo limite, ma che dimostra anche come luce e ombra fanno parte della stessa realtà. Quindi come c'è, in un certo senso, una dannazione dietro questo grande dono, che di fatto più che un dono, se ci pensa bene, è stato il prodotto di un castigo. Se vogliamo rimanere dentro la metafora del mito. Però ci dice qualche cosa, sempre i miti ci raccontano qualcosa di straordinario. E quindi io credo che qui noi oggi abbiamo materiale per fare una riflessione sui temi che, come dire, costituiscono le coordinate della nostra contemporaneità. Il tema della libertà e della contemporaneità è un tema che ci coinvolge alla luce, come diceva poco fa, lei Fabio Medini, di quanto sta succedendo. Però anche le parole che abbiamo sentito da lei poco fa, parole che partono da molto lontano, dall'inizio, dalla creazione del Genesi secondo quanto scritto nella Bibbia, quelle parole, quel comportamento, quella trasgressione ci parla ancora oggi. Ed è questa la potenza di quella parola che noi dobbiamo conoscere. Ma è una parola fondante perché quella libertà che, come diceva lei, Fabio Merlini, nasce da una trasgressione. In quel momento che c'è una trasgressione, Adamo e Deva hanno trasgredito, d'accordo, però in quel momento lei parlava di consapevolezza, in quel momento forse acquisiscono una responsabilità. Quindi noi siamo liberi perché siamo liberati o noi siamo liberi perché siamo obbedienti? Ma guardi, questo è molto interessante quello che dici. In quel momento loro acquisiscono una consapevolezza, improvvisamente si scoprono nudi e se ne vergognano, dice il testo. Quindi vuol dire che l'albero, diciamo così, della conoscenza del bene e del male, li catapulta dentro un universo etico-morale, che è tutta la difficoltà del reggere l'esperienza della libertà. Cioè improvvisamente loro non hanno più questo privilegio straordinario che è l'inconsapevolezza dell'animale che si avventa sulla preda senza senso di colpa. Cioè improvvisamente, come ha detto bene lei, noi ci troviamo, quando si dice la divenire della libertà è il tema della responsabilità. Lei l'ha detto bene, il tema della responsabilità. E questo è il tema che oggi a noi interessa. Perché il tema della responsabilità è il tema di che cosa sappiamo e possiamo fare delle nostre vite. Il tema della contemporaneità. Gli organizzatori mi hanno sollecitato molto sulla questione dell'innovazione, perché poi questo incontro darà seguito ad altri incontri sul tema dell'innovazione. Oggi noi siamo confrontati con questa grande parola che è diventato un luogo comune, ma che è diventato anche una sorta di destino. Cioè occorre innovare, occorre essere innovativi. Le nostre vite, pena l'obsolescenza, devono continuamente stare dentro questo processo. E qui vedete come la libertà la devi sempre leggere dentro la congiuntura, la contingenza della tua forma di vita. E innovazione oggi vuol dire accelerazione, vuol dire immediatezza. E come faccio io dentro questa condizione in cui ho come la sensazione che tutto il tema dell'emancipazione oggi è come dire saturato dal tema delle tecnologie. Ciò che si innova di fatto è l'apparato tecnologico. E in che senso noi siamo ancora protagonisti di tutto questo? Allora lì si pone il problema della responsabilità e del margine della libertà. E lì è il margine che a volte si fa sempre più ristretto perché, se abbiamo inteso le sue parole, questo dovere poi di limitare l'absolutus, godimento dei diritti di ogni persona. Ora, se non esistono dei doveri, degli obblighi, parliamo pure in altra maniera perché è chiaro ed è giusto ed è comodo parlare sempre di diritti, però bisognerebbe anteporre al diritto, bisognerebbe anteporre invece il dovere, l'obbligo di fare. E quindi se tutto questo non c'è, Fabio Merrini, quello che è più capace, quello che è più scafato potremmo dire, vince su tutti. Sì, è giusto ed è quello che è successo in fondo negli ultimi trent'anni, cioè è passata una sorta di ideologia, della fine dell'ideologia, che costruiva questa relazione, cioè anziché essere soggetti di diritti, siamo come dire portatori di interessi, cioè questo orizzonte della competitività assoluta. E qui chi è più scafato evidentemente vince, però qui viene fuori ancora una volta la questione del limite, lei ha ragione, cioè la libertà esiste dentro la responsabilità, l'abbiamo detto prima, e la responsabilità è l'idea che non può esserci società senza sentimento della comunità. E quello che noi abbiamo perso negli ultimi trenta, quarant'anni è proprio questa idea, questa idea, cioè che se noi siamo, come dire, gli esseri senza limite, lì stiamo facendo qualche cosa che lavora contro la libertà, non per la libertà. Perché d'altra parte ci sono altri miti straordinari che ci raccontano questo, il mito di Icaro che cosa fa, racconta proprio questo, cioè c'è un limite oltre il quale stai attento ad andare, perché rischi di bruciarti le ali. Però, Deda lo diceva, il figlio di Icaro, anche qualcosa d'altro, diceva stai anche attento a non volare troppo raso acqua, perché se voli troppo raso acqua, si impregnano di acqua, diciamo così, le ali si appesantiscono e affondi. Quindi vede che c'è sempre questa idea della giusta misura, non è che dobbiamo abbassare perché dobbiamo avere paura, diciamo così, della trascendenza, dobbiamo stare nella giusta misura. E quello che secondo me oggi va riscoperto è questo, cioè un senso positivo del limite, non un senso negativo del limite, perché il senso positivo del limite è anche il rendersi conto chi siamo, altrimenti è il delirio di un'inipotenza, altrimenti è questa idea che oggi è molto in voga, per cui anche la morte, e questo è un paradigma, sono fiorfiori di miliardi che sostengono questo tipo di ricerche in alcuni paesi, anche la morte va trattata come se fosse una malattia, e quindi bisogna trovare l'antidoto. Ma capisci che qui stiamo completamente sovvertendo ma il senso del limite, ma non il senso negativo del limite, ma il senso positivo del limite, che è dentro questo sistema di regole che noi troviamo nella nostra libertà, non in un mondo sregolato. Forse c'è bisogno di un po' di etica kantiana in tutto questo, nella nostra natura dell'agire umano, ma chissà se forse era meglio essere Icaro oppure essere fetonte, e lo lasciamo ai nostri ascoltatori da scoprire magari nel corso dell'incontro con Fabio Merlini. Però vorrei ancora toccare il tema importante della libertà come dono attraverso, lei ne ha accennato poco fa, attraverso la tecnologia. L'uomo da sempre, non è che la tecnologia ci si accompagna oggi, da sempre l'uomo ha utilizzato la tecnologia, ovviamente in relazione alle necessità, alle conoscenze del tempo, e quindi cos'è più pericoloso? L'uomo oppure la tecnologia? Qui Fabio Merlini mi viene in mente il coro, il coro si ricordo bene dall'antigone di Sofocle, quando diceva molte, sono molte, adesso non lo ricordo bene, sono molte le cose tremende, ma la più tremenda di tutte è l'uomo, forse ancora più della tecnologia. No, ma guardi, qui lei ha detto una cosa giusta, lungi da me, e poi con il lavoro che faccio figuriamoci, ma lungi da me l'idea di vedere la tecnologia in senso demonologico, cioè il processo di umanizzazione è un processo per cui la tecnologia è consustanziale allo sviluppo umano, noi siamo esseri mancanti rispetto alle altre specie, quindi abbiamo trovato la tecnologia proprio nel senso compensativo, che ci ha permesso di acquisire una forza che originariamente non abbiamo rispetto, per esempio, ad altri animali. Però il problema è proprio questo, proprio perché abbiamo la possibilità di gestire questo strumento straordinario, che ci viene anche questo dato dagli dèi, si ricorda il mito, dato dagli dèi quando a un certo momento Etimeteo sbaglia nella distribuzione delle competenze e l'uomo si ritrova con nulla. E allora ecco che viene inviata la tecnologia compensativa. Però era già chiaro agli antichi che esisteva una tecnica delle tecniche, perché per gli antichi era chiaro che la tecnologia da sola non assicurava la capacità di fare società, di fare comunità. E allora danno, offrono una ulteriore tecnologia, una sorta di tecnica della tecnica, che è la politica, nel senso più alto del termine. È la politica che permette di fare società. La tecnica ti dà il potere, che è straordinario, ti dà la forza, senza la quale non avremmo potuto fare, non avremmo potuto diventare ciò che siamo, ma ci vuole poi una tecnica, delle tecniche, che riesce, come dire, a organizzare tutto questo all'interno di una comunità per far nascere la società, che non è un insieme di individui autocentrati, narcisisti, che si fanno la guerra in tutte le forme possibili di immaginare l'uno con l'altro. E il tema della comunità è un tema veramente molto importante, che sembra che ci porti fuori persino da questo argomento del dono della libertà, il dono avvelenato. Però oggi, oggi, Fabio Berlini, quando si sente molto parlare di comunità, forse nel termine inglese community, quando ci si rivolge ai social, però questo è un altro significato della parola comunità. Oggi, dal suo punto di vista filosofico, come sta la parola comunità oggi? Che necessità abbiamo di riunirci, di pensare in senso comunitario? Io penso che abbia un senso importante. Anche questo è un termine che si presta a equivoci, esattamente come quello della libertà. Sappiamo bene che ci sono stati periodi storici che ne sono vissuti, si sono riprodotti solo attraverso comunità, e anche questo si è dimostrato disfunzionale. a un certo momento ci vuole un equilibrio tra appunto l'idea moderna di società e però questo sentimento della comunità, per cui in un certo senso è vero che io sono sempre in debito nei confronti di altri, perché da qualche parte, per il fatto stesso di occupare una posizione, io la sottraggo a qualcun altro. E questo sentimento del debito e quindi anche della responsabilità deve essere rimessa, per così dire, in circolo. E non è certo attraverso, ora non si può generalizzare, ma la mia sensazione è che i social e quindi queste comunità contingenti che si creano e si disfano a dipendenza del bisogno, non so quale tenuta relazionale hanno di fatto, rischiano di essere virtuali, ma in tutti i sensi virtuali proprio. Quindi alla fine tu ti accorgi che abbiamo bisogno d'altro, cioè abbiamo bisogno comunque di incontrarci, lo abbiamo vissuto durante la pandemia, che cosa significa la condanna all'isolamento, abbiamo bisogno di scambiare corpi, non abbiamo solo bisogno di scambiare immagini, abbiamo bisogno, il pensiero stesso ha bisogno di essere incorporato per essere un pensiero vivo, non possiamo vivere solo nell'astratto, perché anche questo produce in un certo senso delle disfunzionalità. E io credo che oggi abbiamo gli strumenti per capirlo, perché da qualche parte abbiamo vissuto questa estraneazione durante il Covid, e poi ognuno lo ha vissuto a suo modo, secondo la sua fortuna e la sua sfortuna, però questo credo che sia un insegnamento abbastanza universale. Fabio Merlini, prima di chiudere questa conversazione, però mi sono accorto che non abbiamo ancora pronunciato una parola che forse è importante in tutto quello che lei ci ha fatto ascoltare, ovvero la parola politica. Ecco, la politica in che modo attraversa questo dono avvelenato della libertà? Guardi, io penso che da questo punto di vista stiamo vivendo un'epoca piuttosto buia e andremo incontro probabilmente ad ancora più oscurità. Io sono molto pessimista da questo punto di vista, perché ho appunto la sensazione che stiamo giocando male la carte dalle libertà e quindi in questo senso l'innovazione liberticida, come dicevo nel sottotitolo. Io sono molto preoccupato perché questa grande politica a cui facevano riferimento gli antichi, poi con tutti i limiti naturalmente anche del loro modello, ovviamente politico, che era esclusivo, che non era inclusivo, che era elettario, però c'era questa considerazione di una politica che fosse capace in un certo senso in alcune sue espressioni di pensare al bene comune. Beh, oggi io ho la sensazione che succede quello che si paventava, cioè la trasformazione della democrazia in demagogia e poi il passo successivo è quello del totalitarismo. Quindi dobbiamo essere molto vigili. Io lo dico veramente col cuore, perché questo è un tema che mi preoccupa molto, cioè dobbiamo essere molto vigili rispetto a quello che sta succedendo, perché si scivola senza rendersene conto dentro questa demagogia, questo populismo terribile che diseduca anziché educare. Dobbiamo avere il coraggio di dire che la politica, così anche come i media, devono avere una funzione educativa, non è elitario dirlo, non è trattare le persone per stupido, è il contrario che tratta le persone per ignoranti. E questo credo che sia un tema sulla quale gli uomini di buona volontà, come si diceva una volta, devono essere molto avvertiti e bisogna fare qualcosa. Eh sì, gli uomini di buona volontà. Se penso che anche nel Gloria anche questa definizione è stata tolta, è stata sostituita dagli uomini amati dal Signore. Questa è una cosa che mi è spiaciuta, perché l'idea degli uomini di buona volontà era veramente molto bella. Era bellissima. Era veramente molto, molto bella. Ma leggendo i giornali quotidiani, a proposito di politica, e qui chiudiamo la nostra conversazione, Fabio Merlini, prima parlavamo di comunità, il senso della comunità, che è importante, anche se qualcuno diceva, forse in inizio, che la comunità è il contrario della società, no? La comunità che ne ha il mobilismo, la tradizione, l'eterno presente, mentre la società rappresenta l'innovazione, la storia, il progresso. Ora, sono tutte e due parole molto importanti, ma oggi la politica, se io sfoglio il giornale, se sento il telegiornale, ascolto i talk show in televisione, oggi la politica non entra nella parola comunità, non entra nella parola società. Perché sta al di fuori? O quantomeno cerca di volare sopra e fordirci delle parole e basta? Ma sì, questo che lei dice è giustissimo, tant'è che ormai è invedibile tutto questo spettacolo triste, dove c'è contrapposizione per fare spettacolo e la spettacolarizzazione della politica, oltre a essere la sua infantilizzazione, non c'è più appunto un compito educativo, non c'è società, non c'è comunità, ma sai che cosa? È l'idea di fare mercato, alla fine è questo che ha assorbito. Purtroppo bisogna rifondare anche l'economia ed è quello che sta succedendo, sul quale si sta riflettendo, perché abbiamo capito che è successo qualche cosa che non tiene più insieme, potremmo allargare il discorso, ma il patto di solidarietà tra società, cultura e natura è saltato, lo vediamo, e questo ci impone un ripensamento del che cosa vogliamo dal mercato, che cosa vogliamo dall'economia e soprattutto per quale tipo di economia e di mercato vogliamo lavorare. Il dono avvelenato della libertà è questo il titolo dell'incontro di Fabio Merlini a Biennale Democrazia, il 23 marzo le 11.30 al Polo del Novecento. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Fabio Merlini? Ah, guardi, guardi, io sto lavorando sulla democrazia in America di Tocqueville, proprio su questa idea di un individuo che rischia, l'aveva già visto benissimo, l'individualismo che rischia di trasformarsi in egoismo. Ma è straordinario quello che ha visto in quegli anni Tocqueville, pur facendo un elogio, ovviamente, della democrazia che poteva scoprire in America. Eh sì. Tocqueville con il liberalismo, la democrazia alla ricerca di una nuova scienza politica e questo è sicuramente è ancora, ci parla ancora oggi quel suo pensiero. Grazie davvero, Fabio Merlini e buonasera. Grazie a voi, grazie a lei.